Sono stati arrestati Ciro e Gaetano Iacomino con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Nella serata di ieri si sono costituiti presso la caserma dei Carabinieri di Agropoli a seguito di una serrata caccia all'uomo iniziata giovedì scorso, dopo che i due fratelli di 37 e 21 anni, originari di Torre del Greco, si erano accostati con la propria auto alla vettura del commerciante di pietre di Capaccio, Rosario Cairone, sparandogli un colpo d'arma da fuoco alla spalla. Un'aggressione avvenuta alle 8 di mattina in via Piave ad Agropoli. Ora, per i due fratelli, sulle cui tracce erano da più di 24 ore i Carabinieri, è arrivato il decreto di fermo emesso dalla procura di Vallo della Lucania. Alla base dell'azione criminale, motivi passionali, in particolare la gelosia di Ciro Iacomino per l'ex moglie Annarita, originaria di Eboli ma da tempo residente ad Agropoli, che quella mattina si trovava in auto proprio con Cairone e assistito a quanto accaduto. Dalle testimonianze della donna e di coloro che hanno visto il tentato omicidio e dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la vicenda. Ciro Iacomino, napoletano, che in passato aveva gestito una pescheria a San Marco di Agropoli, non si era rassegnato alla separazione della moglie avvenuta da circa un anno. Con la donna con cui aveva vissuto per una decina di anni ad Agropoli e avuto due figlie, la vita era sempre stata movimentata dai litigi, fino a che si erano lasciati. Una scelta non accettata dall'uomo, tanto più dopo che l'ex moglie aveva conosciuto Cairone, con cui non si sa se intrattenesse una relazione sentimentale o di semplice amicizia. Qualcosa però è scattato nella mente di Ciro Iacomino. Nella notte, tra mercoledì e giovedì scorsi, ha incendiato la Ford Fiesta della moglie in una strada parallela al porto di Agropoli, poi ha atteso la mattina e facendosi accompagnare dal fratello minore Gaetano, ha compiuto l'agguato a Cairone e si è dato alla fuga. Ora i Carabinieri stanno cercando di chiarire chi guidava l'auto e chi ha premuto il grilletto contro Cairone e si lavora per rinvenire l'arma usata. Mentre le condizioni del commerciante di pietre ornamentali, ricoverato al cardarelli dopo che il proiettile gli ha perforato il polmone, sono in lento miglioramento. Anna Rita invece è terrorizzata, terrorizzata dall'ex marito e da quella gelosia ormai fuori controllo.